Questo è Jack, un ragazzo normale, ogni mattina esce di casa e va a scuola, come ogni ragazzo normale, mentre invece questo è John, un ragazzaccio, un vandalo, che va a scuola solo per tormentare chi è più bravo di lui. E ogni giorno, tra i due, si ripeteva la stessa storia. Ehi, guarda, c'è Jack il senza corno. Che stai facendo, Jack? Niente. Come niente? Piccolino. Per piacere, lasciami stare. Avete sentito? Vuole che lo lasciamo in pace. Ma perché mi tormenti? Perché è divertente. E quando tornava a casa, stava sempre peggio. Jack, com'è andata oggi a scuola? Mamma, lasciami in pace! E un giorno non ce la fece più, a sopportare tutto questo. Forse è meglio se la faccio finita. Forse dovrei buttarmi giù, tanto ormai... Vai, suo Jack, buttati, tanto ormai nessuno ti vuole più. Non è vero. Tua madre ti vuole ancora bene. Vedi, Jack? Buttati almeno non dovrai più soffrire ogni giorno. Quando andrai a scuola? Lasciala perdere. Ti sta solo mentendo. Avanti, buttati. Non, non lo fai!